Il Comune di Vibo Valencia ha assessorato alle attività produttive, con il patrocinio della Camera di Commercio, presenta Emilia Puglia Calabria, Arte, Identità e Territorio. Ospiti, tre grandi chef italiani. Cristi Ambroglia, chef partner dell'Emilia. Isabella Mari, chef partner della Puglia. E Dan Pantonino, chef partner della Calabria. Con la partecipazione di Pietro Molinaro, col Diretti Calabria. Modera la serata, Piero Muscari. Gustin Italy, il galà dei sapori italiani.